Radio Streghetta l'oroscopo Dovrete essere forti e ignorarli In amore una situazione esterna rischia di allontanarvi dal partner Fate molta attenzione Toro Bellezza e virtù Oggi ne sarete protagonisti Facendo sfigurare chi vi sta accanto Per i maschietti lunga la giornata costruita da impegni interminabili Per i papà e per i single fatta di lavoretti da troppo tempo rimandati Per le femminucce oggi grandi divertimenti Arei commerciali non si salveranno E in più per alcune ci sarà un incontro che vi lascerà di stucco Gemelli La famiglia sarà il centro dei vostri pensieri Avrete infatti voglia di circondarvi delle persone care Che non vedete da troppo tempo Prenderete in considerazione l'idea di organizzare una riunione Con chi vi sta più a cuore In amore vi sentirete al centro dei desideri del partner Ma dovrete stare attenti a non dare tutto per scontato Cancro Dovrete abbandonare la partita Un paio di errori di troppo vi hanno costretto ad esistere Ma i danni saranno trascurabili Dovrete tenere a bada la frustrazione Che vi rischia di rivelarsi addosso anche alle persone che vi vogliono bene E che non ne hanno colpa In amore terrete duro sulle vostre posizioni senza cedere Leone Siate oggettivi Le vostre idee errate su alcune persone verranno ribaltate dai fatti In amore troncherete definitivamente una vecchia storia Vergine Vedrete finalmente risplendere la luce per voi e per le persone le quali volete bene Avete attraversato non poche difficoltà cari amici Ma ora davvero tutto sta tornando a posto Non ve ne eravate accorti? Iastri si Bilancia La giornata partirà sotto tono Non demoralizzatevi perché nel proseguio ci sarà un deciso cambio di rotta Che coinciderà con una visita in attesa Sorrisi e divertimento sono alle porte Dovete solamente lasciarvi coinvolgervi nelle attività degli amici In amore prenderete sul serio un'offerta proferita con leggerezza Scorpione Una piccola bugia rischia di farvi soffrire Non abbiate paura di dire la verità Anche se dovete trovare il modo giusto In amore troverete il rifugio che aspettate Approfittatene Sagittario Vedrete tutto sotto una diversa luce La giornata infatti sarà caratterizzata dalla riscoperta di oggetti e sensazioni Che analizzerete da un'altra prospettiva Cogliendo l'occasione per ripensare ad alcuni avvenimenti accaduti da poco Osservandone gli effetti In amore troverete naturale dare più del solito Capricorno La vittoria è vicina sul lavoro Andrete incontro a una sfida vittoriosa con chi pensa di saperne più di voi In amore vi sentirete incompresi e dimenticati ma passerà Acquario Siete un po' stanchi nelle ultime settimane Per alcuni di voi si sono cavallate una serie di situazioni Che vi hanno un po' destabilizzato Ma cercate di tirare sul morale Nulla è irrisolvibile Quindi cerchiamo di prendere il capo del filo e della matassa E con calma tutto si risolverà Pesci Un'esperienza al capolinia Non avrete rimpianti perché sentirete di aver dato tutto ciò che era nelle vostre possibilità Ritornerete alla vita di sempre in attesa di una nuova avventura Che non tarderà molto a presentarsi In amore farete valere l'autorità che verrà accettata seppur con fatica